accendo la telecamera con qui hai fatto qualche ripresa? si si come mi chiami? Alfonso poi la pubblichi? si si vabbè che questa è una telecamera tu sei Alfonso? si si teccareti? esattamente ma ci siamo scritti si ci siamo scritti ah ecco qua esatto poi magari vedete di caricare qualche video su youtube eh si basta hai messo il link perchè penso che vi è venuto bene con questi due ma questa è una telecamera che l'ho comprata giusto per il fix quello dell'acinetto rosso non è l'acqua pro diciamo è un incendio si hai visto che valeva la pena trascinarsi dal bici fino a qua sotto si si ma c'è stato un incendio anche qua Antonio si è tutto bruciato si 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 la questa è una torretta a Borboni controllava i pirati che venivano dal mare ehi, mi vedi? mi vedi qua? ehi, come ti piace qua? hai visto? non ti sento e fa l'assegno eh, esatto e invece lo... e quindi c'è io bello e invece io bello Grazie. 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 Grazie.